fructidor 2024 luca leotta il quadro intitolato il tempo di essere o non essere presenta una riflessione profonda sulla dualità della vita e della morte incarnata nella figura della ballerina di flamenco e del teschio la ballerina simbolo dell'essere rappresenta la vitalità l'energia e la passione che pulsano attraverso i suoi passi decisi con ogni movimento sembra celebrare la vita radicandosi nella terra con una forza quasi primordiale tuttavia il teschio simbolo del non essere ci ricorda l'inevitabile destino che ci attende una realtà ineludibile che ci accompagna silenziosamente mentre attraversiamo il nostro cammino terreno sopra di loro l'orologio scandisce il tempo il padrone invisibile che governa le nostre vite ogni ticchettio è un richiamo alla nostra finitezza al tempo che rincorriamo incessantemente come se potessimo dominarlo o allungarlo ma questo tempo è davvero reale o è solo un'illusione che ci costringe in una corsa senza fine mentre in realtà ci avviciniamo inesorabilmente alla nostra trasformazione finale il dialogo tra la ballerina e il teschio sembra suggerire una meditazione sull'essenza stessa dell'esistenza mentre siamo qui immersi nelle contingenze della vita siamo forse anche ciò che eravamo o che saremo il nostro corpo materiale la nostra presenza tangibile potrebbero essere solo una manifestazione temporanea un ologramma che nasconde una verità più profonda così il quadro ci pone davanti all'eterno interrogativo essere o non essere una domanda che si riverbera nei nostri pensieri invitandoci a riflettere sulla natura dell'esistenza e sulla sua fugacità grazie a tutti grazie a tutti